Volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Ciao Sanremo! Penso che un sogno così... Grandi, grandi, grandi grazie veramente di essere qui e grazie mille. Nessica Interisano, conduttrice di Social Radio, anche tu a Sanremo, raccontiamo la prima giornata. La giornata pienissima, inizia veramente con tante sorprese e inizia anche con tanti artisti che abbiamo incontrato. Diciamo che più che la giornata è iniziato proprio ieri sera, all'arrivo siamo stati invitati a Casa Sanremo, al Casino, abbiamo visto personaggi, intervistato ovviamente tutta la troupe televisiva di TVA. Questa mattina davanti al Teatro Ariston ci sono stati collegamenti in diretta. Esatto, infatti stamattina proprio il primo collegamento in diretta da Sanremo, ci siamo riusciti, sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti proprio a collegarci direttamente da Sanremo, abbiamo parlato, infatti avevo il mio spazio, è arrivato il sosia di Pavarotti, eccetera, eccetera. Mandi mandi, ci vedrete pure su Seven Gold se volete, abbiamo fatto pure lì una breve intervista con il loro canale, noi abbiamo fatto altre interviste con altri conduttori di altri emittenti televisivi. Come hanno reagito i social? Tantissimo, guarda, hanno reagito ed è piaciuto tantissimo, tantissimi like, condivisioni da parte di tutti, anche nella pagina RSI Social Radio, che appunto lì vedrete tutto ciò che accade. Ci sono tantissimi video, ci sono tantissime cose da fare a vedere ogni giorno, quindi seguiteci, mi raccomando, e non cambiate canale. Ogni mattina ovviamente ricordiamo l'appuntamento e dalle 11 a luna ci saremo lì e ringrazio ovviamente le riprese di Carmelo Ciletta, nonché regia, che ci aiuta soprattutto proprio a rendere vivo questo Sanremo, in tutto e per tutto. Allora, mandi, 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 lo ricordate, no, lo ricordate, cioè lo dovete, siete simpatiche, social radio, noi siamo simpatiche, social radio, fantastico. E allora, tutti i riaffizionati di social radio sono, mandi, mandi, vi mando un saluto con, 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 quello del microfono. Uccidiamolo, uccidetelo, grazie, grazie a tutti, mandi. Uccidiamolo, uccidiamolo.